Quanta voglia abbiamo di camminare in montagna? Zero. Quanta voglia? Zero. Zero. Amore. Stanco, amore? Abbiamo esattamente fatto 100 metri rispetto a prima. Entusiasmo, natura e vitalità. Questo è un pugnetto. Esatto, vai! Amore. Ok, un'altra piccola pausa. Cos'è la cosa che ti piace di più? Di camminare in montagna. Andare in macchina così non so più fatica. Dai, Leo. Così ci metti mezz'ora però. Ma sono stanco da camminare. Eh, ho capito, amore, però mica puoi scendere così tutto il tempo. Ok, amore, vai, siamo arrivati. Ma chissà meglio di te, amore. Ciuccino, acqua, coniglietto, occhiali da sole, trasportata. Adesso arriva, arriva. Vai papà. Vai papà. Vai papà. Grazie a tutti Grazie a tutti